Hello everybody and welcome back! In today's video I'm going to show you how to make paper labels for your school supplies. Nel video di oggi vi mostrerò come realizzare delle etichette di carta per i vostri materiali scolastici. You will need, avrete bisogno di salotape, scissors, baking paper, carta da forno, and paper. Let's get started! Draw 10 shapes on your piece of paper. Disegnate 10 forme sul vostro foglio di carta, like these ones, come queste più o meno, all'interno delle quali scriveremo il nome delle materie scolastiche. Inside these pictures we will write the school subject's names. We start writing. Iniziamo a scrivere. You can use a marker or a pen. Potete utilizzare un pennarello oppure una penna. I'm going to use these markers. Userò questi pennarelli. In this egg I'm going to write Italian. Italiano. Italian. In the balloon I'm going to write my favorite subject. Scriverò la mia materia preferita. English. 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 In the apple I'm going to write science. 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 S-C-I-E-N-C-E. Science. In the cloud I'm going to write history. Story. history. H-I-S-T-O-R-Y. History. In the dinosaur I'll write P-E, which stands for physical education. Educazione fisica. È un'abbreviazione. P-E. In the flower I'll write I-T. I-T. I-T stands for information technology. Informatica. I-T. In the heart I'm going to write maths. Mathematica. Maths. M-A-T-H-S. Maths. In the ice cream I'll write art. arte. Arte. A-R-T. And the ladybird. Nella coccinella I'm going to write geography. Geografia. G-E-O-G-R-A-P-H-Y. Geography. Geografia. And the acorn. Nella ghianda. I'm going to write music. 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 M-U-S-I-C. Music. Now it's time to decorate these labels. Ora possiamo decorare queste etichette. Now it's time to cut the labels. Ora possiamo ritagliare le etichette. It's now time to make the stickers. You need your baking paper. Avete bisogno della carta da forno. Place the baking paper, posizionate la carta da forno, on top of your pictures, sulle vostre immagini. Lasciate abbastanza spazio tra un'immagine e l'altra. Leave some space between a picture and the other. Now you need saltape. Ora avete bisogno dello scotch. To saltape, you have to cover the pictures. Dovete coprire le immagini. Iniziamo da questa. Start from this one. Do the same for all the pictures. Fate la stessa cosa per tutte le immagini. Now it's time to put the stickers on top of the salad tape. Ora è arrivato il momento di mettere i stickers sopra lo scotch. Quindi così. Fatelo uno alla volta. One at a time. uno alla volta. Così non dimenticate il loro posto. Now, with the glue, stick the label on the tape. Ora, con un pochino di colla, attaccate l'etichetta sopra lo scotch. Cover the labels. With more tape, ora è arrivato il momento di coprire queste etichette con altro scotch. Now, we have finished and it's time to cut the stickers. È arrivato il momento di ritagliare gli stickers. Attenzione, non ritagliate. Troppo attaccato al bordo. Ok? Dovete lasciare un pochino di spazio. Let's start cutting. Iniziamo a tagliare. Your stickers are now ready. Look. You can easily peel them off. See? They're sticky. This is my English book. And now, I'm going to stick my label on the book. This is the label. You see? I can stick it here. These are my colors. Questi sono i miei colori. And I can stick this one on it. Ci posso attaccare questo perché li uso per arte. I use them for art. I can put this one here. Ok? I can stick it right here. Lo posso incollare qui. You see? I have a sticker now. I've made many, many stickers. Guardate quanti. And you can stick them on your school supplies e li potrete attaccare sui vostri materiali scolastici. Goodbye and have fun. Ciao e divertitevi. Thank you. Come and be wieder. I'm ready. Bye. 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 Bye.